È Lady Gaga a tenere in paziente attesa il popolo dell'Ostantunesia, un molto internazionale d'arte cinematografica di Venezia. L'artista torna in Laguna per la continuazione di Joker, che nel 2019, nel primo episodio, è verso il Leone d'Oro. È bello vedervi qui oggi. Credo che il modo in cui ci avviciniamo alla musica in questo film è molto particolare. Non direi che è un musical. In verità è qualcosa di diverso. Il modo in cui la musica viene utilizzata dà e consente ai personaggi di esprimersi. Ma questa è anche la giornata di Diva Futura, quarto film italiano in concorso della regista Giulia Steggevard, con Pietro Castellito, che interpreta Riccardo Schicchi. Quando ho letto il romanzo di Deborah Attanasio e poi approfondendo ulteriormente la storia ho trovato delle tematiche estremamente attuali che mi hanno colpita. E poi ho trovato una grandissima umanità all'interno di questo racconto e quindi ho avuto proprio voglia di dedicarmi per gli anni che ho dedicato a questo film. Pietro Castellito e Barbara Ronchi hanno trovato una sintonia immediata. Sembravano due compagni di scuola, due compagni di merende. E con loro il lavoro è stato estremamente naturale e semplice. Tornare oggi qui con molta più consapevolezza e anche veramente sinceramente contenta che abbiano deciso di selezionare il film in concorso è molto bello. Un saluto a tutti e spero stiate godendo di questo festival.